Ben ritrovati cari amici di GRP, ci troviamo in compagnia del dottor Luigi Torchio, buongiorno. Buongiorno, studioso di medicina naturale, specializzato in medicina dello sport e omeopata. Dunque dottor Torchio, nella puntata di oggi vogliamo fare un piccolo programmino della giornata per avere un tenore di vita sano per i nostri telespettatori a casa? Cioè vorresti tutti i piccoli consigli che si possono introdurre nella nostra giornata per migliorare la nostra salute nel quotidiano proprio. Sì, allora direi che la cosa migliore è partire dal mattino quando ci si alza. Allora la prima cosa da fare al mattino è, come consiglia lo yoga, la pulizia della lingua. Che vuol dire andare in bagno di fronte allo specchio e con un cucchiaio raschiare la lingua dal fondo verso la punta fino a eliminare completamente quella patina biancastra che è un mix di tossine che il sistema alimentare, il sistema digerente elimina ed è anche costituito da cellule morte che devono essere comunque eliminate. Dopodiché risciacquiamo la bocca e possiamo a questo punto assumere la nostra bevanda. La nostra bevanda che potrebbe essere, come è di moda adesso, ma è un'ottima moda quella di bere l'acqua tiepida con un mezzo limone spremuto. Se non abbiamo limone possiamo mettere un cucchiaino da caffè di aceto, che sia un aceto ovviamente naturale, biologico. Tipo aceto di mele? Aceto di mele o anche aceto... l'importante è che l'aceto abbia i fermenti all'interno in modo da poter stimolare la flora batterica e ridurre la presenza di muchi, perché questo è poi lo scopo. Dopodiché, dopo aver bevuto, oppure potremmo bere la nostra tisana. La tisana che dovremmo scegliere non sulla base della moda, ma sulla base dei nostri problemi. Cioè chi è più nervoso prenderà le erbe per rilassarsi, chi ha l'intestino piglio prenderà la tisana per l'intestino piglio, chi vuol depurarsi prenderà quella per depurarsi. Insomma, scegliamo la tisana sulla base delle nostre esigenze. E questo del mattino è il momento ideale per questo bicchiere di tisana e anche per il rimedio omeopatico che andrebbe preso a digiuno. Dopodiché, prima di fare colazione, la cosa ideale sarebbe muovere un po' il corpo. Con un po' di pratica di ginnastica, l'ideale sono il saluto al sole, che è una tecnica che deriva dello yoga, i cinque movimenti tibetani, che derivano anche dalla tradizione orientale, anche perché sono tecniche veloci e non implicano la necessità di avere un'ora di tempo, come in una sessione di yoga, almeno un'ora, per poter fare una sessione completa. I saluti si fanno in 15 minuti, muovono le nostre endorfine, la serotonina, tonificano, alzano l'energia, dopodiché si fa colazione. Si fa colazione, si va a lavorare. Il mio consiglio, quando si sale in macchina, è di cantare o recitare. Se conosciamo i mantra dello yoga, della meditazione, possiamo ripetere i mantra. Se no, piuttosto cantiamo, non facciamoci coinvolgere dal nervosismo. Dal nervosismo che c'è in macchina. Che c'è nel traffico, altrimenti rischiamo di arrivare sul lavoro già negative. Noi sappiamo che quando la mente è in negativo, non vengono le soluzioni ideali. Anzi, siamo anche disarmonici nel muoverci e quindi ci può succedere anche di muoverci e battere una testata contro uno scaffale e cose del genere. Quindi dobbiamo curare l'aspetto mentale, proteggerci nel traffico da tutte le negatività. Poi si lavora. Il momento del pranzo è il momento nel quale possiamo nuovamente dedicarci alla nostra tisana prima del passo, che può essere una tisana digestiva, può essere la tisana, ripeto, che corregge le nostre problematiche. Non è consigliabile fare attività fisica e saltare il passo. È consigliabile, se vogliamo fare l'attività fisica, fare piuttosto un mini passo. Quindi non bisogna saltare i passi mai perché non è vero che aiutano a dimagrire, anzi. Se noi saltiamo il pasto di mezzogiorno e concentriamo il pasto alla sera, purtroppo tendiamo ad ingrassare perché il corpo durante il giorno risparmia, la sera gli arriva tutto assieme e quando noi non facciamo più attività e quindi mette da parte. Per il sonno cosa ci dice riguardo? Allora, prima del sonno, velocemente ti dico che un'ora magica è l'ora del prima di cena, dove possiamo anche qui fare un piccolo spuntino e poi dedicarci alla nostra attività fisica, allo yoga o quello che può essere attività sportiva. Dopo la cena è molto importante fare un paio di cose. Una cosa è quella di assumere una tisana come fanno i francesi a base di sostanze rilassanti, tiglio, valeriana, passiflora, camomilla, quello che volete per favorire il sonno. L'altra, per ridurre il reflusso gastroesofageo, un'ottima cosa è un bicchiere con mezzo limone spremuto, acqua e una punta di bicarbonato, cioè un quarto di cucaino da caffè di bicarbonato. E questo, prima di coricarsi, riduce molto il reflusso, che è un problema enorme e diffusissimo in questi tempi. Dottor Torchio, grazie per i suoi precisi consigli. Ricordatevi di dormire almeno sette ore a notte. Sette ore dipende, c'è chi dorme sette, chi otto, chi nove, comunque bisogna sentirsi bene. Un minimo, ok, bisogna dormire abbastanza, insomma. Grazie cari amici, un caro saluto, ci vediamo al prossimo appuntamento su GRP. Buona serata.